Sì, ho avuto delle notizie fondamentali alla fine del primo tempo, mi dispiace molto, so che è successo una serie di incidenti lontano dal stadio, sulla strada per arrivare a Lecce, adesso verranno fatti tutti gli approfondimenti del caso, quindi in attesa di avere notizie sulla ricostruzione dei fatti, l'unica cosa che mi sento di dire è da parte di tutto il club, che siamo assolutamente rammaricati, siamo vicini a questo tifoso che in questo momento pare che sia in codice rosso, speriamo che si riprenda al più presto e li facciamo un grossissimo in bucca al lupo. E' una cosa che un po' ci ha guastato la gioia di questa vittoria, sinceramente. Presidente, parliamo di questa partita, partita che il Lecce ha vinto con merito dopo il 7-0 con l'Ascoli, non era facile mantenere la concentrazione alta, siete scesi in campo, avete iniziato ad aggredire il Pescara sin dall'inizio e avete conquistato questa vittoria giocando una grande gara. E' vero, c'era il rischio che la squadra si sedesse su quel 7-0, invece è entrata in campo determinata, solida, organizzata, ha fatto secondo me una partita, oggi la partita perfetta, sia dal punto di vista dell'intensità ma anche della qualità del gioco e quindi è uscito un risultato meritato contro una squadra forte, una diretta concorrente e quindi davvero un risultato per noi pre-integgioso. Presidente, oramai a detta di tutti che Brescia e Lecce siano le squadre che giochino il miglior calcio di questo campionato, ci racconta un po' il segreto di questo tentativo che si sta concretizzando dal doppio salto di categoria, qual è il segreto del Lecce? Il segreto è innanzitutto un gruppo costruito con una serie di ingredienti, in particolare un gruppo unito dalla proprietà, i dirigenti, i calciatori, è un gruppo che sta bene insieme e quando si sta bene insieme stiamo vivendo tutto con grande equilibrio, con grande serenità, tutti questi piccoli successi che stiamo ottenendo non ci stanno cambiando di una virgola, anche oggi ho visto il gruppo negli spogliatoi, non sapevo di aver fatto una grande gara ma assolutamente equilibrato, assolutamente sereno, è già pronto e proiettato alla partita di mercoledì. Viviamo tutto con entusiasmo ma anche con giusta serenità, questo è il segreto. Presidente, l'ultima, qual è il segreto di questo Lecce? Come dicevo adesso, volare basso, il basso profilo, un gruppo che sta bene insieme, poco altro, davvero, noi veniamo dalla C, abbiamo vissuto l'inferno della C e tutto quello che stiamo vivendo in questo campionato è un sogno e non ci dimentichiamo mai da dove veniamo, pochi mesi fa, mi ricordo un anno fa, la stessa giornata di oggi, stavamo rischiando di perdere la promozione in Serie B e questo è un fatto che va ricordato secondo me in ogni momento.